Ciao a tutti, vediamo come possiamo acquistare Dragon's Dogma 2 a basso prezzo. È molto facile, sotto in descrizione trovate i link per questi siti, trovate anche le guide effettive di me che comprova nel caso siete curiosi di vedere passo passo come si fa. Comunque oggi vi spiego sostanzialmente quello che dovete fare. Allora, cerchiamo Dragon's Dogma, sono fortunato, ce l'ho qui. Apriamo e dobbiamo guardare alcune cose. Innanzitutto che qua sia globale, non ci sia scritto niente o sia Europa, altrimenti non possiamo riscattarlo, va bene? Se c'è scritto Asia, Stati Uniti, Cina, Spagna in modo specifico non possiamo riscattarlo, deve essere Italia, Europa o globale. PC, scegliete, edizione, vi assicurate dove lo dovete riscattare, vedete se premo PS5, vedete PlayStation Store. Niente di che, penso siano cose abbastanza semplici se siete gamer. Dopodiché avete qua come attivare il prodotto e c'è per ogni console, ma ho fatto anche io le guide, perciò siete coperti anche questo. E questo è Eneba. Scusatemi, questo è Instant Gaming. Andiamo su Eneba e cerchiamo Dogmas. Dov'è? Eccolo qua. Dragon's Dogma. Seleziono e quello che dovete guardare qui è diverso leggermente su Eneba. Perché? Perché qua potreste avere Europa, Italia, ma anche la scritta globale. Mentre invece qua non ce l'avete. Questa parte se è globale non l'avete. Mentre invece qua avete scritto globale, va bene? Cioè se è globale la posso riscattare in tutto il mondo. Se è Italia, chiaramente Italia, Europa. Noi siamo in Europa, quindi vedete posso riscattarla. Su Steam, come riscattare. Poi qua c'è scritto offerta sponsorizzata. Se c'è scritto questo, scendete e dovreste trovare, vedete, offerte a basso prezzo. Cioè meno, ancora più basse di quanto è l'offerta sponsorizzata. Se non c'è scritto offerta sponsorizzata, ma c'è scritto miglior prezzo, prendete questa. Altrimenti prendete quelle sotto. Chiaramente questo è un preordine, deve ancora uscire e quando sarà disponibile vi manderanno la chiave e la riscattate. Questo è quanto, non c'è altro da dire e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!